il ladruncolo burfaldo e il flauto magico una fiaba in stile classico di walter carignano c'era una volta burfaldo un ladruncolo malandrino che viveva rubando e ingannando la povera gente rubava i poveri perché non aveva il coraggio di rubare ai ricchi e così non solo toglieva tutto a chi già aveva poco ma era sempre in cerca di nuove persone a cui rubare perché il suo bottino non era mai una gran cosa un giorno vide un uomo che dormiva sotto un albero quattro quattro si avvicinò gli rubò lo zaino e se ne scappò lontano quando fu al sicuro suotò lo zaino per terra e ne uscì un pezzo di pane due mele e un flauto che sfortuna tutta questa fatica per un bottino così misero però ridacchio fra sé mentre la sua mente malvagia pensava a una nuova cattiveria però potrei ingannare qualche contadino e fargli credere che questo flauto sia magico sì sì proprio una bella idea allora prese il flauto e lo pulì per bene in modo da farlo sembrare più prezioso alla fine gli venne voglia di provarlo anche perché doveva pur far sentire che suonava se voleva venderlo a caro prezzo burfaldo non sapeva suonare ma soffiare dentro un pezzo di legno sono capaci tutti pensò così prese il flauto in mano mise le dita come qualche volta aveva visto fare i musicisti nelle fiere di paese avvicinò le labbra al beccuccio e improvvisamente venne fuori una melodia dolce e delicata si staccò stupito e si rese conto che le dita si erano mosse da sole mentre lui soffiava senza neanche sapere bene come perbacco il flauto era magico davvero burfaldo si mise a ballare per la gioia da solo in mezzo al prato è magico è magico sono ricco è viva è viva ma dopo quel momento di allegria gli venne qualche dubbio sì il flauto era magico e con questo lui non aveva una gran voglia di diventare un suonatore girovago erano tutti dei poveraci che dipendevano dalla generosità delle persone da chi dava loro un'offerta o qualche soldo no no così non poteva andare doveva riuscire a venderlo si mise a suonarlo di nuovo per vedere se usciva sempre la stessa melodia la melodia era in effetti la stessa le dita si muovevano sempre da sole come prima ma dopo pochi istanti si affacciò un lupo dai cespugli burfaldo si spaventò e smise di suonare anche il lupo si fermò santa polenta cosa faccio se mi metto a correre lui mi insegue lo sanno tutti che non bisogna correre con i lupi ma 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 perché se ne sta lì cosa aspetta qualcosa però doveva pur fare e allora gli vennero in mente le leggende riguardo alla musica che rendeva docili le bestie riprese a suonare il lupo gli si avvicinò era chiaro che non aveva brutte intenzioni anzi adesso era come fosse stordito burfaldo smise di suonare lupo fai una capriola e il lupo fece una capriola lupo mettiti a pancia in su il lupo si mise a pancia in su incredibile quel lupo faceva quello che voleva lui allora avrebbe potuto mettersi d'accordo con qualche cacciatore portargli lupi inebetiti e vendergli lì ma la prima cosa da fare era impedire che questo lupo qua se ne andasse e così lo legò a un albero lupo aspetta qui che io torni certo aspetterò che tu torni il lupo parlava o forse era anche quello effetto del flauto chissà ma ci avrebbe pensato più avanti burfaldo andò in cerca di un cacciatore cammina cammina gli venne fame cominciò a cercare qualche bacca o qualche castagna ma come sono stupido basta che mi metta a suonare primo poi arriverà qualche lepre io la farò arrosto suono arrivarono una volpe un cervo due lepri e un gufo la volpe e il cervo li legò all'albero anche loro parlavano ed erano ai suoi ordini come il lupo del gufo non sapeva che farsene prese il coltello e stava per uccidere i due leprotti quando sentì una voce di donna poco lontano incuriosito si avvicinò vide una donna chiamare le galline e dar loro da mangiare aveva una bella cascina molto ordinata e pulita si vedeva anche dal vestito e dalla collana che aveva addosso che gli affari le andavano bene aspetta e se il flauto avesse avuto potere anche sugli uomini oltre che sugli animali avrebbe potuto far fare alla donna quello che voleva e rubarle tutti i soldi e poi scacciarla di casa e diventare lui il padrone eh sì quello sì che sarebbe stato un buon colpo e poi poi avrebbe fatto lavorare i contadini gratis maledetti contadini dando loro giusto quello che bastava per non farli morire di fame e se fossero morti che importava si sarebbe messo a suonare e ne avrebbe trovati degli altri anche loro suoi schiavi sarebbe diventato un signore servito e riverito tutto giorno senza far niente che bellezza andò verso la cascina voleva capire bene la situazione si riassettò gli abiti si pettinò e mostrandosi umile e gentile si fece vedere dalla donna buonasera bella signora potrei chiederle per favore un poco d'acqua la donna lo guardò ma certo venite venite e se vi piace di più anche un bel bicchiere di vino davvero molto gentile se così non posso rifiutare si misero a parlare burfaldo sapeva essere molto a modo quando voleva ingannare qualcuno e così in breve venne a sapere che la donna si chiamava cleglia era vedova senza figli e che per lei lavoravano 30 contadini lui si fece i suoi conti in testa 30 contadini era davvero ricca e tutta quella ricchezza fra un attimo sarebbe stata sua ridacchiò fra sé prese il flauto dolce cleglia posso suonare per te e stava per cominciare quando si sentì un ululato dovete sapere che l'effetto del flauto durava solo poche ore se si utilizzava per scopi malvagi così il lupo si era liberato mordendo la corda coi denti e si era messo sulle traccia di burfaldo aveva allora incontrato la volpe e il cervo e le proti e il gufo e tutti gli animali si erano messi insieme per trovare burfaldo a vindicarsi inoltre erano amici di cleglia che non li cacciava e che d'inverno faceva sempre trovare loro qualcosa da mangiare la volpe balzò sul tavolo attenta cleglia vuole ingannarti è un ladro è un impostore cleglia si stupì burfaldo esito per un istante quel tanto che bastò ai due le proti per saltare tutti e due insieme zac togliergli via il flauto dalle mani burfaldo capì che tutto era andato storto strappò la collana dal collo di cleglia e scappò ma non aveva fatto i conti con il lupo che gli si mise di fronte ringhiando allora burfaldo cercò un'altra via di fuga ma il cervo prese la rincorsa e gli diede una potente cornata nel sedere facendolo volare dritto dritto nel recinto dei maiali intanto il gufo aveva volato per tutto il bosco alla ricerca del musicista e l'aveva condotto lì i leprote gli restituirono il flauto lui suonò guardando burfaldo e e così fu proprio lui burfaldo che divenne docile e servizievole pronto a fare tutto quello che gli altri gli avrebbero detto di fare una giusta punizione per chi avrebbe voluto tutti ai suoi piedi vi è piaciuta questa storia seguiteci ogni settimana nuove favole fiabe